Siamo con Marco Tosoni, vincitore del Forex Contest di ActiveTrades, con una performance di oltre 300 punti percentuali. Marco, come hai ottenuto queste performance? O meglio, a livello operativo, che indicatori usi per selezionare una strategia di trading? Io utilizzo uno stile molto semplice. Utilizzo un RSI tarato a 5 periodi, poiché sono un trader intraday, utilizzo principalmente un time frame 15 minuti, quindi utilizzo sempre un RSI a 5 periodi e bande di Bollinger a 34 periodi. Non utilizzo altri indicatori particolari, se non i pattern relativi ai grafici a candele. Un elemento molto importante nella definizione delle scelte operative per un trader è proprio l'inquadratura del rapporto RIS-Rendimento. Tu che rapporto usi e perché usi questo rapporto? Allora, io personalmente il rapporto RIS-Rendimento non lo utilizzo fisso per qualsiasi operazione. Diciamo che so che devo mantenermi in media attorno all'1 a 1,25. Questo perché preferisco chiudere una grande quantità di operazioni positive per essere sempre psicologicamente lucido e mantenere alto il mio capitale psicologico. Quindi con questo tipo di RIS-Rendimento riesco a semplificarmi la vita, dato che non è sempre semplice andare a prendere il RIS-Rendimento 1 a 3, 1 a 4, che sono difficilmente raggiungibili con il mercato, soprattutto sull'intraday. A livello prospettico invece, data la tua visione di trader di successo, quali mercati azionari preferisci in questa fase, dunque con una prospettiva di medio termine e perché? In questo momento c'è molto fermento sul nostro indice italiano e poi un mercato che è sempre profittevole, soprattutto per chi come me fa intraday, è il DAX tedesco. Diciamo che per scalpere dei trader è il massimo a cui si possa aspirare perché ha dei movimenti molto veloci che riescono a remunerarti anche dal punto di vista temporale e non solo monetario.